Un verdetto che sta facendo discutere. Saif al-Islami, il secondo genito di Gheddafi, è stato condannato a morte dal Tribunale di Tripoli. Sentenza definita e legittima dal governo di Tobruk, riconosciuto dalla comunità internazionale. Stessa pena anche per altri otto imputati. Il verdetto è stato criticato inoltre dalle Nazioni Unite, dal Consiglio d'Europa e da molte ONG che hanno denunciato l'assenza di un processo eco, come lo stesso avvocato difensore di Saif al-Islam. I cardetti sono stati molto duri, non ci aspettavamo una decisione simile, ci sarà comunque un ricorso alla Corte Suprema. Tutti sono accusati di crimini di guerra e di aver represso le proteste pacifiche durante la rivoluzione del 2011. Intanto la milizia si rifiuta di consegnare Saif al-Islam al governo filo-islamista di Tripoli.